A me è stato dato come compito di raccontarvi come è nato il mito dei marziani, che è un mito diciamo made in Italy e quindi è sempre divertente da raccontare ma come diciamo un astronoma non posso non iniziare dal farvi scrivere quanto Marte sia stato importante per la nostra comprensione dell'universo in particolare del nostro posto nel sistema solare. Vi ricordo che per diciamo millenni il cielo è stato visto secondo le concezioni che noi chiamiamo polemaiche con la terra al centro di tutto. Questa visione è diciamo ricordiamocela perché noi terrestri abbiamo sempre il nostro primo modo di porci rispetto al resto dell'universo e di metterci al centro. Quindi vedete la terra poi la luna mercurio venere il sole Marte Giove e Saturno cioè tutto ciò che tutti i pianeti che si vedono a occhio nudo. Marte però aveva subito giocato uno scherzone agli astronomi Tolomeo e Tal diciamo così perché Marte ogni tanto fa questa cosa strana che si chiama moto retrogrado va avanti torna indietro e ricomincia andare avanti. Lo fa anche Mercurio bisogna dire ma Mercurio è molto più difficile da vedere. Marte si vede benissimo quando fa il moto retrogrado e questo aveva costretto gli astronomi da altri tempi ad arrampicarsi sui muri e a cercare di fornire spiegazioni quindi erano nate gli epicicli deferenti tutte delle cose estremamente complicate per spiegare il moto dei pianeti. ce l'avevano fatta devo dire ma nel diciamo intorno al 1500 compare una nuova figura questa nuova figura è il signor Copernico il signor Copernico che viene spedito in Italia dallo zio canonico è polacco ma viene mandato in Italia a studiare. non era uno studente straordinario va a Padova va a Bologna poi alla fine si laurea in in giurisprudenza fondamentalmente e ma a Ferrara tuttavia lui il lo zio voleva che facesse il medico lui non voleva fare il medico evidentemente a Bologna aveva snasato l'astronomia aveva deciso che laurearsi in diritto canonico fondamentalmente andava bene ma poi torna alla natia a Polonia a Toronna e inizia a come anche lui uomo di chiesa inizia a osservare Marte e ha l'intuizione l'intuizione fondamentale che effettivamente cambia la struttura di sistema solare il sole è al centro e i pianeti girano tutti intorno quello che noi chiamiamo la rivoluzione copernicana il libro sulla quale si basa si intitola De Rivoluzionibus che non ha niente di rivoluzionario sono semplicemente le orbite dei pianeti intorno al sole perché l'orbita del pianeta intorno al sole si chiama rivoluzione quindi lui ha questo manoscritto ma esita a pubblicarlo esita perché sa che sta camminando sulle uova perché quando uno dice che il sole è fermo al centro dell'universo ma nella Bibbia c'è qualcuno che dice fermati al sole il sole si fermò per uno che fa l'uomo di chiesa non è proprio banalissimo ma alla fine lo convincono in qualche modo l'editore Petreius è abbastanza coraggioso tra virgolette da pubblicarlo 1543 vedete che ci ha messo 30 anni ad arrivare a questa cosa libro fondamentale 500 copie ed è questa la prima immagine diciamo del nuovo sistema copernicano il nuovo sistema copernicano che però ha un piccolo problema tecnico non è meglio di quello tolemaico quando si tratta di fare le previsioni delle posizioni dei pianeti poi c'è un altro problemino i pianeti interni avrebbero dovuto avere le fasi ma le fasi a occhio nudo non si vedevano giusto per darvi un'idea questo qui 1543 le fasi le vedrà Galileo Galilei nel 1610 quindi voglio dire deve passare un secolo e mezzo prima di risolvere il problema delle fasi di Venere ma più o meno nello stesso periodo troviamo un'altra personalità molto importante nella storia dell'astronomia che si chiama Keplero Keplero è diciamo matematico di corte l'imperatore a Praga e lui era stato diciamo così aiutante di un altro astronomo diciamo in qualche modo meno famoso di lui ma non meno importante che era Tico Brahe e non si sa se alla morte di Tico Brahe Keplero aveva preso le carte di Tico Brahe e se le era portate via oppure se la famiglia di Tico Brahe le avesse date ci sono delle diciamo ricostruzioni storiche diverse ma alla fine lui pubblica questo fondamentale lavoro che vedete c'è scritto Ex observacionibus Ticones Brahe quindi è il lavoro matematico di Keplero basato sulle osservazioni di Tico Brahe e questo è veramente fondamentale perché lui studia l'orbita di Marte e fa alcune fondamentali scoperte che mi piacerebbe farvi vedere o se volete sentire se riusciamo perché sono fondamentali ma ci sono molti modi per rinunciarle e visto che al mattino è bene iniziare diciamo in modo frizzante la giornata vediamo se riesco a farvele sentire in modo frizzante l'orbita descritta da un pianeta attorno al sole è proprio ellittica e il sole splende proprio in uno dei due fuochi situati sopra il piano dell'eclittica oh baby baby non sospirare se ricordavi un movimento circolare che per la terra l'eccentricità è 0.017 è proprio piccola come te baby la seconda legge afferma che il raggio vettore dal centro del sole al pianeta orbitante muovendosi spazi in tempi uguali regioni diverse ma di aria costante la seconda legge la seconda legge porta come conseguenze interessanti numerosi corollari dove si legge che per i pianeti non sono costanti le velocità orbitali oh baby baby al perielio la terra viaggia più veloce perché alla fine è adesso che è la sofficienza assicurata non ti fermare anche la terza va studiata anche la terza va studiata la terza legge dice che si prendono i quadrati dei periodi che i pianeti stanno in orbita e c'è una legge legate al quadrato con esse mi asse al cubo il maggiore di ogni orbita oh baby baby puoi consegnare ma non ti devi più scordare quindi avete visto la legge di Keplero la terza legge di Keplero verrà molto utile quando si parlerà di pianeti extrasolari perché è con la terza legge di Keplero che si calcola la massa dei pianeti extrasolari comunque torniamo a Marte perché non solo Marte ha fatto capire a Keplero che le orbite sono ellittiche tutte queste belle cose qui ma a un certo punto i telescopi gli strumenti sono diventati abbastanza performanti da questo oh ok da permettere di vedere qualche cosa sul pianeta il pianeta non era tutto uniforme ma aveva qualche tipo di struttura l'aveva già visto un italiano si chiamava Fontana ma aveva fatto dei disegni abbastanza incomprensibili Huygens astronomo lavora a Parigi con Cassini fa dei disegni più belli il prossimo personaggio che si occupa di Marte è appunto Giovanni Domenico Cassini che nel 1666 misura il periodo di rotazione di Marte che è un risultato straordinario devo dire veramente straordinario perché il periodo di rotazione di Marte lui lo misura in 24 ore e 40 minuti effettivamente è leggerissimamente diverso ma ha considerato che lui l'ha fatto facendo vedendo come degli spot su Marte si muovono e considerando che la Terra gira in 24 ore voglio dire Cassini era un signor a fronte questo è una importante scoperta su Marte ma vediamo che per diciamo 200 anni non succede niente di veramente rilevante vedete che passiamo dal 1659 al 1830 e su Marte sempre queste schizzette c'erano il prossimo step mi avete fatto un pdf accidenti non si vede niente io vi avevo mandato un powerpoint mica un pdf questo qui è la scoperta di Phobos e Deimos da parte di Hall nel 1877 due due lunette 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 piccoline che si pensavano essere asteroidi catturati adesso proprio 15 giorni fa sono usciti i dati della sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti che dimostrano che Deimos potrebbe invece essere un pezzo di Marte comunque lasciando perdere queste diciamo problematiche vediamo finalmente a colui che ci dice qualche cosa di veramente diverso questo colui è Giovanni Schiapparelli Schiapparelli ottiene dal suo sodale amico piemontese Quintino Sella i finanziamenti per comprare un nuovo telescopio con il quale rendere veramente competitivo l'osservatorio di Brea è una storia bellissima quella del telescopio di Schiapparelli perché Schiapparelli chiede un finanziamento straordinario allo Stato italiano Stato italiano che è appena venuta l'unità d'Italia ok figurati nessun problema è appena venuta l'unità d'Italia Quintino Sella è il ministro che ha messo la tassa sul macinato è un ministro delle finanze durissimo tant'è vero che quando Tremonti doveva dare diciamo delle brutte notizie agli italiani diceva che lui si sedeva sulla scrivania di Quintino Sella Sella voglio dire Quintino Sella era la persona che voleva avere il bilancio dello Stato in pareggio e Quintino Sella era ministro delle finanze quando la richiesta di Schiapparelli arriva in Parlamento il ministro dell'istruzione non c'è non è non è a Roma e allora è Quintino Sella che diciamo parla in favore della di questo finanziamento e dice tra l'altro a Brera hanno tutti i i resoconti di queste sedute parlamentari dice signori i tempi sono duri ma noi non dobbiamo privare i nostri scienziati della possibilità di studiare e quindi dopo bellissime parole dice vi chiedo pertanto di approvare questo finanziamento straordinario che metterà i nostri astronomi in diciamo nella posizione di competere il finanziamento straordinario viene approvato e Quintino Sell il giorno dopo scrive a Schiapparelli dicendo che c'era stata una maggioranza di quella che noi oggi chiameremmo bulgara lui non la chiamò bulgara perché non era il caso ma disse diciamo tutti hanno capito l'importanza dei tuoi studi ma questa il fatto che noi ti diamo dei soldi è proprio dovuta al fatto di quanto alto è il nostro diciamo la nostra considerazione della scienza Schiapparelli compara questo telescopio tedesco bellissimo meraviglioso e si chiede come fare a vedere che veramente funzioni così bene e in quel momento guarda caso Marte è in opposizione cioè nel momento nel quale è più vicino alla Terra perché l'opposizione è il momento astronomico nel quale il il sole la terra e Marte sono allineati quindi Marte è sempre visibile durante tutta la notte ed essendo più vicino è anche più grande le sue dimensioni apparenti sono più grandi Schiapparelli guarda Marte non si era mai preoccupato particolarmente dei pianeti lui studiava le stelle doppie lui aveva capito da dove venivano le stelle cadenti li aveva collegate alle comete eccetera quindi faceva tutto un altro tipo di scienza ma guarda Marte e rimane folgorato rimane folgorato perché vede delle strutture sulla superficie di Marte e ancora una volta fa dei disegni perché fa dei disegni perché non c'era altro modo di ricordare quello che lui vedeva di trasferire quello che lui vedeva agli altri e riempie quaderni e quaderni di disegni all'osservatorio di Brera Milano nella biblioteca storica li hanno e sono deliziosi bellissimi da vedere a me piace sempre far notare vedete che ha attaccato quel pezzettino di carta qua e vedete che ha attaccato con dei francobolli perché lo scotch non esisteva ancora però vivevano lo stesso vedete Schiapparelli Marte è in opposizione più o meno ogni due anni ogni 26 mesi e lui a quel punto lo guarda con passione e sentimento e alla fine produce il planisfero di Marte qua ne vediamo un un tipo qua ne vediamo un altro con il e il planisfero di Marte che cosa vi dice vi dice che ci sono delle regioni che lui chiama mari vedete questo qua questi questi mare eccetera e ci sono delle strutture che li uniscono vedete queste strutture qua che si chiamano che lui chiama canali ma se andate a vedere in questa in questo planisfero trovate che c'è il tigri le ufrate il nilo eccetera quindi chiaramente lui li chiamava canali ma ma poi gli dava nomi di fiumi ne fa tutta una serie di queste belle visioni questa è una visione polare ma pubblicando negli annali dell'accademia dei lincei questa questa proiezione polare di quello che lui vedeva su Marte dice che il prossimo passo sarà la fotografia astronomica perché molti gli dicevano ma noi non li vediamo questi canali com'è questa storia però devo dire che lui oltre a scrivere sugli annali dell'accademia dei lincei si era fatto convincere a scrivere per a scrivere un librino di diciamo divulgazione che aveva intitolato la vita sul pianeta Marte 1895 non è molto diverso da quello che vi ho fatto vedere prima era 1890 schiaparelli che era un letterato finissimo parlava ovviamente fantasticamente bene latino ma aveva una grandissima cultura in generale e allora in questo librino che è stato abbastanza qualche anno fa è stato ripubblicato sempre a cura credo dell'università di Milano se Tucci l'aveva ripubblicato vediamo quello che lui in un ambito non accademico perché lui sulla sua copia aveva scritto Semmelinanno lice tinsanire nel senso che diceva chiaramente e poi diceva questo io sono andato sulle ali dell'ippogrifo era chiaro che per lui c'era la differenza tra quello che pubblicava sui giornali scientifici dove raccontava le sue osservazioni e quello che invece pubblicava quando lasciava via libera la sua fantasia allora chiaramente qui vedete che dice non senza una qualche ragione furono chiamati canali attenzione quando il nome si debba intendere in un senso assai largo allora gli aveva chiamati il Nilo le Ufrate eccetera ma va avanti e dice allora non sono larghissimi corsi d'acqua come da alcuno fu creduto l'ipotesi più plausibile è quella di considerarle come zone di vegetazione estese a destra e a sinistra dei veri canali i quali esistono si lungo le medesime linee ma non sono abbastanza grandi da essere veduti da terra cioè lui sapeva benissimo quanto erano larghe le strutture che vedeva e sapeva benissimo che non potevano essere semplicemente dei fiumi allora questi canali probabilmente costituiscono il meccanismo principale con cui l'acqua e con essa la vita organica può diffondersi sulla superficie asciutta del pianeta allora l'idea che da qualche parte almeno secondaria vi possa essere una razza di essere intelligenti non può essere considerata come interamente assurda se Marte esiste una popolazione di essere ragionevoli capaci di vincere la natura e di costringerla a servire i propri intenti la regolata distribuzione delle acque sopra le regioni atte a cultura deve costituire il problema principale e la continua preoccupazione degli ingegneri e degli statisti ok quindi se su Marte c'è vita è bene che si preoccupi di distribuire l'acqua non dimenticatevi che lui era un ingegnere idraulico quindi era particolarmente sensibile a questa cosa così stando dunque disposta le cose essendo giunta all'estate nell'emisfero nord la grande inondazione boreale essendo arrivata alla massima altezza il gran prefetto dell'agricoltura ordina che si aprono le acque quindi siamo già arrivati al gran prefetto dell'agricoltura e quindi la cosa è bellissima Marte è certamente il paradiso degli idraulici ingegneri idraulici ovviamente perché lui ragionava proprio come l'ingegnere idraulico che gestisce le chiuse che quando bisogna inondare le risaie devono aprirsi le chiuse eccetera quindi questa cosa assolutamente fantastica allora questi scritti vengono tradotti ci sono traduzioni in tutte le lingue della vita sul pianeta Marte pensate persino in russo ma la persona che viene proprio colpito e affondato da queste considerazioni è Percival Lowell più o meno negli stessi anni allora Percival Lowell vedete 1903 1907 quindi gli scritti di Schiapparelli girano per il mondo e lui fa la mappa il suo Martesfero il suo planisfero di Marte che tra l'altro ce n'è una coppia a Castaingandolfo e vedete che a questo punto la situazione dei canali di Schiapparelli è completamente diciamo diventata una specie di rete ferroviaria allora c'è il mare ci sono i mari e poi ci sono tutte queste reti di comunicazione si intersecano in punti dove chiaramente secondo Lowell ci sono delle città e Lowell comincia a parlare con il Wall Street Journal voglio dire mica pizzefichi che dove parla Conscious Intelligent Human Life Exist Upon the Planet Mars e quindi non è una cosa banale ma ancora meglio New York Times tutta pagina nell'agosto 1811 forse non avevano nient'altro di meglio da mettere ma vedete c'è Lowell che dice grandi lavori di ingegneria compiuti in un tempo incredibilmente breve dai nostri vicini planetari perché perché da una opposizione all'altra si vedevano i canali che cambiavano un po' quindi evidentemente erano i marziani che meravigliose formichine facevano queste cose quindi nell'immaginario collettivo i marziani c'erano c'erano lavoravano erano intraprendenti il ovviamente come vi dicevo non tutti vedevano i canali che vedeva Schiapparelli per esempio Antonia Di un astronomo francese rifaceva le osservazioni quello di Schiapparelli e questo è Antonia Di dove chiaramente si vedeva che quello che Schiapparelli aveva pensato di vedere era in effetti molto più molto meno regolare di quanto avesse visto ma a questo punto signori il dado è tratto il dado è tratto e vi faccio vedere una compilazione della di uno dei libri di maggiore successo della storia della fantascienza che è la guerra dei mondi è stato pubblicato la prima volta nel 1898 e continua a essere pubblicato è stato tradotto in tutte le lingue del mondo e vedete che nel giro di pochi anni è stato tradotto in francese in spagnolo in italiano eccetera ma non c'è solo il famoso Wells H.G. Wells che parla di marziani ci si mette anche Edgar Harris Burroughs che è quello di Tarzan per darvi un'idea che scrive la sagla di John Carter su Marte c'è John Carter che va su Marte incontra le principesse e ne fa assolutamente di tutti i colori quindi marziani come se piovesse letteralmente e è entrata ovviamente nella storia della radio la drammatizzazione della guerra dei mondi fatta dal giovane Orson Wells Orson Wells qui lo vedete insieme a H.G. Wells lo scrittore che nella notte di Halloween nel 1933 fa una drammatizzazione radiofonica interrompiamo le nostre trasmissioni perché abbiamo una notizia è successo qualche cosa nel New Hampshire eccetera è drammatizzazione che era prevista nel senso che non è stato uno scherzone fatto agli ascoltatori era nel programma solo che quelli che si mettevano in ascolto per caso così magari non avevano letto il programma e si sono spaventati diciamo così quindi vedete qua il New York Times il giorno dopo in prima pagina dice gli ascoltatori vanno nel panico perché sono marziani aiuto ma i marziani continuano a far parlare di sé questo è un libro bellissimo veramente di una poesia incredibile le cronache da Marte la guerra dei mondi diventa un film che ha un successo strepitoso ma e quindi ragazzi siamo arrivati al 1952 un certo signor von Braun progetta la missione a Marte attenzione lui scrive libri cerca disperatamente di arrivare al pubblico americano per farlo diventare in qualche modo sensibile ai problemi dell'esplorazione dello spazio non è ancora stato lanciato Sputnik e lui già pensa come andare a Marte è uno che ha le idee serie ma le prime sonde automatiche su Marte sono lanciate tra il 60 e il 62 i russi sovietici fanno 5 tentativi che falliscono miseramente perché andare su Marte non è banale il primo flyby cioè il primo sorvolo di Marte lo fa il Mariner 4 della NASA e il Mariner 4 manda le prime foto le prime foto di Marte dimostrano che è un pianeta brullo che non ha vegetazione e questo signore che forse avete riconosciuto è Carl Sagan mette la parola fine ai canali di Marte vedete scrive su Nature nel 1966 on the nature of the canals of Mars e quindi i canali di Marte sono un problema psicofisiologico non un problema astronomico sono gli occhi dell'osservatore che uniscono i puntini e quindi fanno nascere strutture ma se pensate che però questo abbia convinto tutti vi sbagliate di grosso perché c'è sempre qualcuno che pensa ai marziani e per esempio c'è la famosa storia della faccia su Marte vedete questi qui sono questa è una foto dei Viking alla fine degli anni 70 dove si vedeva questa faccetta questa faccia la gente dice ah chiaramente sono i marziani che ci stanno mandando un messaggio e la NASA non ce lo dice perché la NASA vuole tenere i segreti allora dopodiché vanno altre sonde e si vede che questo qui è una formazione geologica assolutamente normale un alto piano come ce ne sono decine decine ovviamente dipende da quanto è radente la luce del sole e quante pixel ha la vostra immagine immagini con tante pixel come vediamo questa qui che è Mars Express dimostrano chiaramente che sono cose naturali ma voglio dire pochissimo tempo fa è venuta fuori nel maggio del 2022 Curiosity ha fotografato uno dei tanti panorami marziani che fanno le sonde e in questi panorami marziani qualcuno ha visto un rettangolino e hanno detto c'è una porta su Marte da lì chissà da dove si va ecco e con questo concludo grazie grazie grazie